Gendiri dei spettatori, benvenuti a speciale Audac Cervinara, speciale Audac Cervinara che vuole ancora una volta onorare il ritorno in eccellenza della squadra del Presidente Ricci che come vedete dalle immagini da ieri sera sta guardando e riguardando tutto ciò che è successo in quel di Marcianise, veramente uno spettacolo bellissimo, la gara di User TV e Sport Channel è sulla bocca di tutti, ma farci compagnia oltre al Presidente Ricci che è indaffaratissimo a vedere la gara, c'è il capitano del Cervinara Simone Cioffi che avevamo avuto l'occasione di ospitarlo solo quando aveva dovuto, gioco forza per un motivo molto particolare, chiedere scuse ai diffusi, è passato tanto tempo, ora si gioisce, si parla, si festeggia, iniziamo questo speciale Audac Cervinara con una domanda d'obbligo al Presidente Ricci, il Presidente si parte da lontano, la Presidenza Ricci è di 5 anni fa, 5 anni che sono serviti a crescere, maturare, seminare e raccogliere, il frutto è stato raccolto ieri con una gara bella, soprattutto una gara che ha visto anche il ritorno allo stadio di 1400 persone, 200 da parte del Paolisi, 1200 da parte del Cervinara e soprattutto con personaggi che mancavano allo stadio almeno 4, 5, 6 anni, quindi già questo è un successo nel successo. Sì, ieri si è vista da gente che non veniva al campo chissà da quanto tempo, è stato un sogno perché nel 2010 sono stato chiamato a fare il Presidente del Cervinara, ero contentissimo e da quel momento il mio obiettivo è stato sempre quello di riportare il Cervinara in eccellenza. Quell'anno è stato un anno che a dicembre sono subentrato, la squadra era in pessima situazione di classifica, ci siamo salvati, poi l'anno dopo sempre in prima categoria abbiamo vinto i playoff, risalito in promozione, un paio d'anni per organizzarci e poi quest'anno il sogno di risalire in eccellenza. Questo è anche la programmazione, una società che è gestita da me personalmente con ogni anno qualche innesso e qualche collaborazione, però Cervinara adesso senza fare polemica ha bisogno, lo facciamo presente, sempre di un aiuto di qualcuno che ci vuole dare. E' un argomento che tratteremo alla fine perché oggi dobbiamo parlare di gioia, dobbiamo parlare di tante cose, a Simone la prima domanda d'obbligo, Simone tanta militanza, tu che sei di Cervinara, sei figlio della Cervinara, non hai voluto mai uscire fuori dalla Valle Gaudina, hai preferito giocare solo ed esclusamente col Cervinara, quindi questa gioia, soprattutto il primo campionato che vinci, un campionato importante, vai nella Serie A del calcio dilettantistico campano, quindi diciamo che cosa provi? Franco, quello che sto provando in questo momento è qualcosa di indescrivibile. La felicità è tanta, ma soprattutto voglio ricordare una cosa che mi disse il Presidente 3-4 anni fa forse, mi disse stai tranquillo, non mollare, che prima o poi ti farò vincere un campionato da capitano e oggi come oggi posso solo ringraziarlo. Gio, la festa è durata fino a notte tardi, noi siamo usciti con un articolo insieme a Sport Channel che è un articolo bellissimo tra sacro e profano, a dire ieri sera a ritorno dalla festa si è incontrata la processione con il volo dell'angelo e l'ironia della sorte, il Cervinara che arrivava e il cannone sparava coriandoli bianco celesti, un segno del destino secondo te? È stata una cosa bellissima perché abbiamo cercato in tutti i modi di non arrivare nella contemporaneità del volo dell'angelo, però non c'è stato niente da fare perché il traffico per la strada, tanti problemi, uscire dallo stadio è stato molto difficile. Sembra il destino il fatto che la Madonna si sia unita al Cervinara in questa cosa perché veramente era qualcosa che i cittadini di Cervinara, i diffusi del Cervinara sognavano e quindi forse molto probabilmente la Madonna e forse anche qualche amico che sta al di là, che ricordiamo tutti, che è Mimmo. L'ho ricordato anche in telecronica. C'è stato vicino e forse anche a lui dedichiamo, cioè dedichiamo sicuramente a lui questa grande vittoria e questo passaggio in eccellenza. Poi abbiamo scoperto durante la cerimonia anche un prete ultra, il prete della parrocchia dei Salomoni ha osannato, ha detto qualche parola a favore del Cervinara, quindi questo fa parte della Cervinara goliardica, la Cervinara che nonostante c'è qualcosa di importante, nonostante la crisi in altri settori, quando si unisce allo sport diventa importante. Festa davanti ai locali di Cervinara, c'è in programma una festa di cui parleremo alla fine, però parliamo di calcio della squadra. La squadra che passa da Cagnale a Ceramella è una svolta, una svolta come dicevo appunto ieri perché Cagnale non ha fatto male, però non ha dato il giusto piglio per essere protagonisti in Senza Assunso. E' passato dalla morbidità di Cagnale al sergente di ferra che è Andrea Ceramella che ha voluto a tutti i costi squadra, ha avuto anche un innesto importante che è stato Ricci, anche se Ricci ha giocato, ricordiamo, solo tre gare, quindi non è che sia stato, ha contribuito, però non in maniera determinante. Differenza Cagnale e Ceramella, io dico che la vittoria a mio parere è 50-50 ed è giusto anche osannare Alessandro Cagnale che è stato protagonista dall'anno scorso fino a metà campionato. Ora, vedendo le cose, cosa avresti pensato il Cervinare in eccellenza senza Cagnale? No, sinceramente con Alessandro abbiamo passato un bellissimo periodo a Cervinare, sia quello dato del campionato scorso, sia all'inizio di questo campionato. E quindi sarei stato contento a vincere il contatto del campionato con lui, figurati, era una cosa che ci siamo sempre detti e non c'era nessun problema. Però c'è la differenza tra lui e Ceramella e Andrea molto probabilmente sull'esperienza, sulla capacità di gestire lo spogliatoio, dove Alessandro molto probabilmente ha bisogno di fare un po' di esperienza in più. Cervinare è una piazza difficile, dove ogni parola detta viene osannata, pesata, fatta pesare, voglio dire, devi stare attento a come ti muovi, non puoi pensare di dire alcune cose e poi non farle, insomma, è difficile. E quindi lui ha pagato un attimo la sua inesperienza, ma come qualità di allenatore non si mette in discussione. E poi dobbiamo dire che Andrea non ha solo avuto la possibilità di, ecco, non ha usato Renato, perché Renato ha giocato un quarto torno alla prima partita, un secondo torno e poi ieri era quello lì che doveva forse giocare o non giocare. Però ha avuto il coraggio ad Andrea di far giocare pace, abbiamo visto di nuovo il vero pace, quello che abbiamo da due anni, è un ragazzo fortissimo, ha avuto la capacità di mettere in campo contemporaneamente con Santosuosso e Peppe della Marca, cosa che tutti quanti dicevano che fosse stato difficile mettere in campo. Quindi voglio dire, Andrea ha lavorato tantissimo sulla mente dei ragazzi, perché lo spogliatoio, l'ho sempre detto e loro lo sanno, è stato sempre uno spogliatoio tranquillo, unito, di ragazzi per bene, dove ogni innesto veniva accolto in modo bellissimo, Renato subito è entrato nello spogliatoio, è diventato amico di tutti. Quindi voglio dire, non c'è stato mai quello spogliatoio dove uno era controllato, anche quei ragazzi di fuori con della Marca e Pignalosa non hanno mai creato problemi, né loro, né i ragazzi della zona, né i ragazzi della zona a lui. Quindi voglio dire, è stato veramente un bellissimo spogliatoio. E lì c'era bisogno di lavorare, dove Andrea ha lavorato e ha lavorato bene, perché ha dovuto far capire allo spogliatoio, agli calciatori, che eravamo la squadra più forte. Io quando ho chiamato, quando il primo incontro che ho avuto con Andrea ho detto mi accontento di un secondo posto e di fare i play-off a Cervinale. Lui mi ha sempre detto, Presidente, io a Cervinale sono venuto per vincere il campionato. Diciamo che questa parola lui l'ha mantenuta, io per questo lo ringrazio e gli faccio i complimenti per tutto quello che ha fatto qua. Simone, spogliatoio compatto, unito, che però ad un certo punto della stagione ha quasi quasi deragliato, possiamo dire, perché è arrivata qualche sconfitta di troppo, qualche risultato non veniva tipo sconfitta con la Virtus.Cody, Bisaccia, qualche vittoria striminzita, molti di voi sono stati messi in discussione, il momento più bello o il momento più brutto? Vabbè, io penso che nell'arco di un campionato ci siano sia le sconfitte che le vittorie. Forse il momento più brutto è stato, secondo me, la prima sconfitta a Sant'Agola, perché subito si è creato un meccanismo intorno alla squadra che non andava bene. Subito dicevano, come posso dire, che... Che assalivano un pochino i tifosi, la gente, sì. Già avevano smesso subito di crederci. Dallo spogliatore, invece, posso dire che siamo stati sempre tranquilli fino all'ultima gestione di Cagnale e l'inizio di Andrea Ceramelle, che alla fine ce l'avremmo fatta tranquillamente. Tranquillamente alla fine non ce l'abbiamo fatta, però pensiamo di meritare l'eccellenza. Pensiamo di meritare l'eccellenza. Bene, diciamo che sul campo il camionato sarebbe stato appannaggio del Paolisi, ma purtroppo non è il Cervinara che ha voluto determinate cose, è il comitato e qualcosa che non è andato nel verso giusto. Presidente Ricci, indipendentemente da tutto ciò, oggi delle feste ne parliamo, diciamo alla fine cosa faremo, però nelle ultime due o tre domande che vado a farvi. Il futuro del Cervinara. Ora si festeggia, però il futuro parte da Ricci, però una società, come sempre ha detto il Presidente Ricci, allargata con nuove forze, soprattutto le forze che erano ieri sul campo diano una mano, perché Cervinara va in un campionato di appartenenza, dove è degno protagonista. Tutto questo deve succedere perché Cervinara ha fame di calcio. Questo è il problema grosso di Cervinara. Tanti tifosi, tanta gente che piace il calcio, bellissima atmosfera, tutti che ti chiedono, tutti che vogliono che sia una squadra competitiva, poi dopo però manca quell'apporto, quell'aiuto che c'è bisogno. Noi adesso dobbiamo goderci questa vittoria. Poi è normale che dopo quella goduta c'è la vittoria, dopo aver fatto tutto quello che c'è da fare per rilassarci un attimo, perché il campionato è finito da poco, ognuno di noi aveva la propria famiglia, alla quale io ho tolto tantissime domeniche di festa per sacrificarmi per la squadra, dove i miei figli giustamente la domenica a tavola non mi hanno visto spesso, e quindi o mi dovevo pranzare prima, oppure stavo cinque minuti e andavo via, quindi loro si sono sacrificati insieme a me. È normale che tutto questo ha bisogno di un aiuto, cioè io ho bisogno di gente che mi dia una mano, anche di sponsor per fare un campionato più decente, per non correre dietro ai pagamenti delle rette dei ragazzi, dei rimborsi, voglio dire, c'è bisogno di avere una solidità, una tranquillità dove più persone si impegnano e che quindi ognuno abbia un po' di tempo da dedicare alle proprie cose, perché poi il lavoro non si può trascurare. Io ero... Questi cinque anni avevo deciso di portare il Cerminale d'Eccellenza, avrei fatto qualsiasi cosa per portare l'Eccellenza, quindi tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché io sono... Quando mi intestardisco per fare una cosa ci devo riuscire, e quindi ho trascurato tutto in questo periodo perché la mia convinzione è che il campionato del Cerminale era l'eccellenza. Adesso ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che pensavo fosse giusto per questo pubblico e per questo paese. Adesso c'è bisogno che qualcun altro mi dia una mano e che possiamo fare qualcosa di meglio. Un'ultima domanda a Simone e poi gli udiamo con la festa del Presidente Ricci. Simone, sugli spalti ieri dal campo ho intravisto due personaggi e qualche altro al di fuori che sono legati a Cerminale. Mi riferisco a Di Maia e a Bovino che l'anno scorso hanno giocato a Cerminale, dimostrazione che Cerminale ha lasciato qualcosa nel cuore. Da Cervinarese, cosa provi di gioioso nel calcare il Canada di Cerminale e soprattutto nel difendere la maglia bianco-celeste? Io penso che se andassi a giocare in un'altra squadra io non sarei questo giocatore. Cervinara, sarà che sono cresciuto nelle giovanili del Cervinara, ho fatto tutta la gavetta e sono arrivato dove sono adesso che sono il capitano del Cervinara e per questo ogni partita che gioco ma anche ogni allenamento che faccio lo sento sempre di più. È qualcosa che non si riesce a spiegare. È un amore. In effetti dormi nella maglia bianco-celeste da quello che abbiamo capito. È un vero amore verso questa maglia. Alla fine mi sento Cervinarese e voglio difendere i colori della mia città. Bene, ultima domanda per il Presidente Ricci. Presidente, abbiamo parlato di festa. La festa, come si può solare dire, non finisce qui perché oggi siamo appena a lunedì e i festeggiamenti continueranno ma tutti si aspettano una mega festa anche per celebrare in degno modo la vittoria del campionato e in degno modo anche il Presidente Ricci perché merita il Presidente Ricci. L'abbiamo detto, è inutile osannare. Sappiamo quello che ha fatto, quello per cui si è esposto. Quando e come ci sarà questa festa? Quando non sappiamo ancora la data precisa perché oggi ci siamo visti un po' con alcuni dei soci del Cervinara. Poi faremo un incontro anche con gli Ultras perché è nostra tradizione a Cervinara festeggiare sempre con i ragazzi degli Ultras. Quindi la festa la faremo sempre insieme a loro. Quindi faremo un incontro, penso tra oggi e domani stabiliremo il giorno e stabiliremo anche le modalità della festa. Credo che con quasi sicurezza in questa settimana, fine settimana di sabato la faremo. Non credo di andare oltre questa perché è giusto farla subito e approfittare di questo entusiasmo. Tu prima hai nominato due calciatori Bovino e Sasatimani. Ma solo per dire due? Perché c'erano tanti altri. Questa è la dimostrazione che chi viene a Cervinara si innamora di Cervinara. I ragazzi erano... ci siamo sentiti per tutto l'anno. Loro hanno sempre pensato che il Cervinara potesse vincere questo campionato. Mi hanno sempre detto Presidente non vi abbattete, non vi preoccupate. Voglio dire, ho ricevuto sempre tante telefonate e messaggi da tutti e due. Ragazzi eccezionali. Questo è quello che io voglio far capire ai Cervinalesi. Cervinara è un paese bellissimo dove chi viene difficilmente si allontana da qui. Ma se si allontana fisicamente con la mente ci sta. E questa è una cosa che noi dobbiamo essere orgogliosi perché siamo un popolo veramente eccezionale. Adesso quindi abbiamo bisogno anche che questa cosa eccezionale che abbiamo come popolo la dobbiamo mettere insieme per fare un salto di qualità a questo calcio. Perché Cervinara ha bisogno di questo salto di qualità. Noi dobbiamo fare una squadra in eccellenza che dimostri il nostro carattere. Il carattere di questo popolo cervinarese che è un popolo che quando c'è da festeggiare siamo tutti insieme ci divertiamo e sappiamo ospitare le persone sappiamo dare tutti. Il riservo ti faccio solo le lacrime di Santo Sos che piangeva dalla contendenza di aver vinto il campionato Cervinara. voglio dire questa è una cosa che ti rimane nel cuore ti rimane nella mente voglio dire non si dipendica. E poi a Simone l'ha detto lui gli ho detto Simo c'è stato un momento in cui lui voleva aveva qualche problemino che voleva vincere qualcosa e quindi diceva Presidente ma io ho bisogno di forse di cambiare maglia per vincere qualcosa. Io disse Simo non mi abbandonare perché tu sei uno di quelli su cui io ho sempre avuto fiducia e ho puntato tutto. Io ti prometto che ti faccio vincere il campionato da capitano. E' una cosa bellissima che mi sto emozionando ancora. Beh questo fa capire quando ci viene il Presidente Ricci al campionato perché siamo un giorno dopo escono ancora lacrime io l'ho visto piangere ieri sul campo effettivamente erano lacrime sì di gioia però quando uno piange vuol dire che in cuore c'è qualcosa che lo fa esplodere al momento giusto i festeggiamenti del Cervinara non finiranno qua vi dico subito che giovedì sia il Presidente Ricci sia Felice Pepe saranno ospiti di Sport Channel insieme a noi per parlare del Cervinara quindi anche in diciamo fuori provincia il Cervinara è conosciutissimo perché grazie alla nostra telecronaca grazie alla sportità di Sport Channel alla collaborazione di Sport Channel siamo arrivati a Salerno siamo arrivati via web un pochino in tutto il mondo credetevi è una gioia anche per noi poter parlare del Cervinara non siamo di parte però siamo gente che sta nel mondo dei media quindi vogliamo osannare chi vince l'avremmo fatto anche con altre squadre ma Cervinara in questo momento è una squadra che festeggia è giusto che sia così vi lascio anche perché hanno altre incombenze ora c'è la passarella un pochino da per tutte ed è giusto anche questo grazie a Presidente Ricci grazie a Simone grazie a voi speciale out a Cervinara finisce qua arrivederci a Cervinara a Cervinara a Cervinara